Cosa significa tutti gli anni organizzare questo momento di ricordo? E' importantissimo soprattutto per i familiari delle vittime che attraverso questa celebrazione loro sentono vicini i loro familiari. Quindi per loro questa giornata, questo momento è fondamentale per la vicinanza ai loro cari. Come è cambiata la tematica sicurezza in questi anni? Sicuramente rispetto a 17 anni fa le cose sono migliorate tantissime. Adesso abbiamo treni che si frecciano a 300 km orari su delle linee proprio a loro dedicate e tra breve addirittura a 400 km orari. Sicuramente il progresso tecnologico ha inciso moltissimo sulla sicurezza anche sul progresso dei trasporti ferroviari.